buongiorno come va gente guardate con chi sono oggi con gino sportivo e l'altro soggetto che era dietro diego allora 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 attenzione video importantissimo perché perché se voi pensavate che la stagione al mottolino è finita vi sbagliate di grosso oggi video speciale perché ci sono un botto di strutture nuove in tutto il bike park no non si fa così no salve siamo in questo video oggi oggi andiamo a vedere tutte le strutture nuove del bike park mi hanno detto che tutto nuovo perché il video è tuo orca miseria le facciamo fare tutte dietro allora niente mi hanno detto che ci sono un botto di strutture nuove tutto il bike park nuovo adesso andiamo a scoprire tutte le cosette nuove che hanno fatto andiamo bene siamo caldi andiamo verso la prima feature la conosci il war ride e poi un'altra linea che saltella altre linee dei gap però prima un po di riscaldamento tranquillo che io non ho ancora girato che bel feeling ok mentre jernobyl sistema ha detto la cartellonistica spiegami la situa davanti a noi abbiamo due curve che sono state rivisitate con sponde più alte step down e dopo di che ora è da prendere proprio con un'angolatura bella strada ok e poi si prosegue shark destra shark sinistra no al contrario shark sinistra shark destra vabbè qualche lei e poi un gap che salti via l'altra pista bello dove potremmo far passare sotto il germe adesso riusciamo a boncargli la testa dai ci sto io ti seguo mi fido tu lo fai wall si forse lo doppio adesso vedo non riesci a doppiarlo allora non lo faccio quello faccio quello sinistra ma donna che chiesata ma ti stavo per entrare in faccia se qua non ci arriverò mai allora ok la linea l'ho fatta ma ero troppo vicino a diego non va bene attenzione una linea che io non farò perché la faccio fare a diego e gino 3 2 1 dropping vai tu attenzione gsport opening up the line si comincia con uno step down che è super 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 smooth mi sto già avvicinando troppo perché è un problema e qua abbiamo due dirt nuovissimi super 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 stilosi freschi da girare occhio alla hip wow yes e i dirt jump che sono sempre uguali ma più belli bravi ma bravi guarda non sai cosa ti perdi ma sai che con l'avanzare dell'età non mi sento molto in forma in questo periodo ragazzi non me la sento ma lì vedo un'altra linea nuova sì 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 che non ho fatto neanche quella com'è se fa più grosso sulla sinistra ok hanno chiuso quel salto della morte che è un panettone che è anche carino ok dopodiché per non fermarsi lì come al solito hanno fatto un salto che entra in sponda incredibile a 3 2 1 go bella madonna ah bello che stile qui si entra in sponda non ci si ferma e subito sul cap bellissima questa bella bella sicuramente bella ma sto girando a 3 di pressione allora hanno sistemato proseguendo hanno sistemato il pannettoncino prima dei condomini hanno aggiunto un boner qui sotto a un certo punto e poi è cambiato lo step up e è cambiato lo step up perfetto facciamo tutto e andiamo ma che bello questo condomini sempre belli un po' di scrappatina e Diego che atterra in Cina è così e oddio la scandalata della vita e quello lì che vedete davanti a noi è il boner come tu ben sai si perché sei un prono si i boner vanno fattivamente piano rispetto ai sali non lo sapevo e quindi perché sei una terrencina e dirò che adesso non sono mai partito da qui però se partiamo da mezza curva forse forse siano giusti ok ti fidi? eh oddio no ma mi fiderò adesso ti fidi meroso mi fido di te Jack ecco il cane che acuto hai sentito bello andiamo va per cui piano piano oh la madonna ma così piano no zio ma sei serio mamma mia mamma mia la struttura è figa ma andare così piano è inquietantissimo grazie anche quello è più lungo anche questo è più bello sì allora indirittura della prossima struttura che dovrebbe essere all'interno della Black Eye piccolissimo dettaglio non sappiamo dov'è non sappiamo cos'è e non sappiamo com'è no non mi hai fatto neanche io per cui non credo onestamente che lo tireremo totalmente a caso buongiorno ma c'è un nuovo feature si andiamo giù prima a guardarlo molto carino si non è grande partì da lì mi sa si è più di così non vai a me ci sta ma si non mi sembra difficile anzi con l'attiraggio così è anche più bello morbido mi piace mi piace mi piace per la seconda volta ti fidi di me Rose mi fido di te Rose ok no no Jack lui è Jack metallo 3 2 1 go oh dio mamma mia sono andato in culo al mondo alla faccia di non arrivarci fu si però lì dove sono atterrato io non tanto smooth eh ti dissi che eravamo veloci io ho schiattato un metallo però io sono andato a sinistra dove si è atterrato te e poi è andata orco cane però è bello è molto morbido ok altra cosa fatta totalmente a caso bella lì allora ci accingiamo adesso a provare mi dicono fonti anonime universo mi dice che c'è uno step down nuovo nella blu nella blu va bene andiamo ma tu l'hai già fatto? si e ci sono anche le curve prima che sono state rifatte un pochino più larghe più spondate più carine ok vabbè io ti seguo vado piano allora qui vedo già un grosso cambiamento mamma mia che belle sponde qua bello 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 molto bello e qua bello molto bello è morbido zero impatto in atterraggio il che è molto figo in realtà facendolo sembra molto più piccolo di quello che è cioè è proprio un salto semplice ma ragazzi prendiamoci un momento per apprezzare un vero mezzo che apparirà in un video di Diego prossimamente vi dico solo questo siete pronti? 3 2 1 la Mauro guardate che componentistica freni finiti proprio bella sospensioni non ci sono e quest'uomo ve la farà vedere in un suo video a breve corto vo' dentro vo' dentro prossimo feature nuovo direzione chemical water vietato camminare non si cammina qua sono in bici cosa c'è? curva a sinistra con la sciarchina destra e poi ci sono 3 doppi ma sono grossi? no sono piccolini mi fido di te va bene dai allora andiamo vai le spiegazioni esatte di gsport ok uno bellino si è qua col c***o non ci arrivo e qua neanche no che merda che sono aspetta no raga scusate ero stralento non li ho fatti ho fatto il primo poi sono arrivato sul secondo ho detto no sono piantato non ci arriverò mai eh vabbè niente questa era l'ultima struttura che volevamo farvi vedere come avrete visto Gino li ha fatti niente di trascendentale ma sicuramente molto belli carini si ah Gino quasi mi dimenticavo grazie per avermi tirato sulle strutture di niente grazie per avermi tirato grazie grazie gentilissimo no seriamente grazie che mi avete tirato altrimenti non l'avrei mai fatti allora 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 credo che più o meno vi abbiamo fatto vedere tutta la situazione nuova questo cosa significa per chi credeva che la stagione è finita inizio settembre sbaglia sbaglia non è finita anzi raga siamo solo all'inizio vabbè oddio siamo aperti fino al 23 e venite a provare tutte le strutture nuove che sono veramente belle piacevoli alcune semplici alcune difficili e niente noi ci siamo molto divertiti come al solito lasciare non vince chi vince ma vince chi sopravvive giusto come al solito lasciare un commento qui sotto iscrivetevi al canale dobbiamo assolutamente crescere di numero se volete vedermi fare un giro da non so quanti chilometri tanti in bici da strada con Ziliani dobbiamo arrivare a 50k fate voi fate voi se volete vedermi morire impegnativo è tanto 300 chilometri niente se volete vedermelo fare iscrivetevi altrimenti iscrivetevi comunque e niente arrivederci ciao 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 ciao